buongiorno a tutti l'artista esistenzialista valutazione sul gioco di tiago molto qualcuno si stancherà ma è un po un video che fa un po d'accollante a quello su xiaia cobelli perché che spesso volentieri viene criticato tiago molto qui non stiamo a difendere tiago molto perché tiago molto è il nostro amico il nostro amico e nostro cugino l'amico del cuore no cerchiamo di essere obiettivi realiste di fare delle valutazioni diciamo pacate ma soprattutto accurate rispetto a ciò che sta costruendo la juve la juve costruisce dal basso un gioco complesso complicato ci vogliono delle connessioni ci vuole un po più di tempo vanno assimilate devi parlare ogni giocatore devi sviluppare un certo tipo di gioco e devi sperare che non si rompa nessuno tutta una serie di fattori che poi non sono di semplici valutazioni e attuazioni la juve e abbiamo detto tra i cinque top cambiatori europei la miglior difesa seconda solo al baier monaco se non funziona magari il gol preso con lo stoccarda potevi stare lì ancora col baier non cambia niente una piccola diciamo sfumatura sicuramente una squadra che costruisce dal basso e tra i migliori d'europa costruendo dal basso perché comunque non è che subisce tiene palla si raggruppano fanno densità e non prendono gol quantomeno che cosa succede che purtroppo però poi è 49esima per tocchi in aria pur avendo il 13 per cento di possesso di palle in più della squadra di allegra allegra aveva più tocchi in aria quindi questo un po lascia perplessi però adesso vi faccio capire ed è 42esima per diciamo realizzazioni tiri in porta e quindi risultato a sbloccare e quant'altro è un po lontano qualcuno dice per un centravanti mediocre io non lo so per occasioni gol diciamo non sviluppati in modo chiaro e quant'altro ma nelle ultime sei partite signori altra diciamo finestrella un focus rispetto a quello che è la situazione attuale è in netto miglioramento perché l'occasione gol sono raddoppiate e c'è un cup minor in più in crescita quindi se noi prendiamo atto che magari potenzialmente se oltre a questi dati di fatto ci aggiungiamo magari in prospettiva un centravante un po più prolifico una tipologia di giocatori diversi e magari ci aggiungiamo che ne so un cup minor in crescita come vi sto dicendo che magari un centrocampista qualche gol in più e ci aggiungo anche che ne so un Douglas Lewis che esce dall'etargo dico sì perché chiaramente poi lì dovrai fare delle valutazioni perché sai tutti hanno subito i primi sei mesi Zidane, Platini, Nedved eccetera eccetera c'è questo ambientamento in Italia perché in Italia è un calcio tattico molto più lento più accurato passimonioso eccetera eccetera non hai troppi spazi come ce l'hai in Inghilterra, in Spagna bla 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 agli altri campionati europei ok lo sappiamo quindi questo è quello che io volevo dire anche in riferimento magari al discorso riguardo al gioco di Diago Molto è un gioco che ha bisogno di tempo ma sicuramente è in netto miglioramento già queste cose poi si vedono e come ho detto per il Napoli Napoli-Roma sarà importante vi dico che sarà importante anche Milan-Juven laddove la Juve si troverà senza Lovic il meno non so se ha recuperato recupererà Teo Hernandez se mi sembra Gabbia là dietro l'ha recuperato ma non è quello fondamentalmente vedremo anche una Juve senza il centro avanti sembra un paradosso e vediamo se verrà utilizzato io ne so per una manciata di minuti un tot di minuti qualche attaccante alla next gen o addirittura signori non è tanto il discorso di Timothy Weah là davanti perché per me un po' mi fa venire i brividi questa cosa molti hanno visto il gol con la Mary si ho capito con gli USA però Weah e Weah signori miei cerchiamo di essere un pochettino realisti no non possiamo cercare di estrarre il sangue dalle rapie e dalle pietre signori miei cerchiamo di essere obiettivi la cosa positiva per il gioco di Tiago Molto è giocare un attimino senza il centro avanti sai triangolazioni rapide sbuti il centrocampo magari si accentrano gli esterni una volta Hildiz una volta l'altra parte con il Seisano si può fare un gioco totalmente diverso e si buttano dentro magari le mezzali centrocampissi può essere qualche cosa che in prospettiva può dare qualche occasione in più magari anche per le due centrali del Miro non avere un punto di riferimento una rete uno un centravanti puro là davanti li può magari mandare in difficoltà tutto qua